Ciao, bentornato o benvenuto nel mio canale. In quest'ultimo periodo so di essere stato un po' discontinuo nel caricare i vari contenuti anche nel sito. Purtroppo ho avuto diverse vicissitudini che non mi hanno permesso di farlo, ma ti prometto che sto creando davvero un contenuto speciale a pagamento per tutte quelle persone che vorranno imparare a suonare la tromba a livello professionale anche. Quindi ti aspetto, se vuoi saperne di più iscriviti al newsletter, ti metto il link qui sotto nel video e venimi a trovare nel mio sito www.corsoditroma.com. Ci vediamo presto, ciao!